ecco ci siamo ciao benvenuti a rizosfera sono federico e oggi siamo qui a nella nostra piccola terra e piccola terra è un'azienda che abbiamo fatto partire io ed elisa nel 2016 e siamo qui a noventa vicentina tra i colli ugani e i colli iberici e abbiamo trovato in affitto questo terreno che è di circa un ettaro e dopo diciamo dieci anni di esperienza che ho avuto in un'altra azienda ho deciso di staccarmi e di cominciare a coltivare questo piccolo terreno in maniera diversa da come eravamo abituati prima quindi manualmente con attrezzatura leggera facile da utilizzare e lavoriamo con suoi aiole permanenti abbiamo un centinaio di aiuole permanenti che andremo a vedere e vi facciamo vedere adesso più o meno come li gestiamo queste aiuole come le lavoriamo questo è il giro in campo mensile giusto valentino bene oggi siamo primo giugno ricordiamoci ecco quindi a giugno noi abbiamo in questo settore del campo qui una volta c'era una sara che poi è stata rovinata da un temporale e abbiamo deciso di non rimettere il telo ma di coltivarla così queste sono le nostre aiuole che sono delle aiuole molto poco poco rialzate leggermente più alte del livello del terreno e abbiamo questi piccoli passaggi tra una aiuola e l'altra proprio lo spazio per per passare quindi per sfruttare per utilizzare più che sfruttare al meglio tutto il terreno disponibile anche perché sappiamo che i passaggi poi vanno gestiti vanno tenuti liberi dall'erba quindi è sempre un terreno da gestire allora volevo farvi vedere questa prima aiuola per esempio noi lavoriamo molto con consociazioni quindi in questo caso qui abbiamo trapiantato le cipolle abbiamo messo cipolle a gruppi di tre abbiamo fatto tre file di cipolla una qui una al centro e una di lato e tra una fila e l'altra per utilizzare appunto tutto il terreno abbiamo seminato la rucola che adesso è questa in fiore e i ravanelli questo ci consente di avere da una aiuola sola la possibilità di raccogliere tre prodotti infatti la rucola noi l'abbiamo già tagliata un paio di volte e ora l'abbiamo lasciata andare a questo punto sfruttiamo ancora un'altra possibilità e quindi prendiamo questa rucola che ricordiamo è una crucifera quindi dal fiore a forma di croce tutte le piante che hanno il fiore a forma di croce sono le crucifere come i cavoli e prendiamo queste piante le togliamo con la radice e le posizioniamo a terra per fare una pacciamatura verde questo è un lavoro che è anche molto veloce invece i ravanelli li ho di qua buona parte li ho già raccolti quindi li ho già venduti quelli che sono rimasti adesso sono andati a seme e poi li lascio su o posso fare la stessa ravanca di qua li tolgo in velocità e si fa una pacciamatura verde che va benissimo per le piante perché questa pacciamatura appunto attrattiene l'umidità e non mi fa più intervenire per gestire le erbe ecco questa è una tecnica che utilizziamo spesso e di fare queste consociazioni il più possibile allora queste cipolle le ho trapiantate e oggi siamo prima di giugno quindi saremo andati in aprile e intorno a metà aprile però si può trapiantare anche tranquillamente prima e al momento del del trapianto delle cipolle ha seminato subito la rucola e il ravanello adesso volevo farvi vedere invece qui abbiamo un aiuola completa di vietta da costa anche qui l'idea è quella di trapiantare le piante con un sesto di impianto fitto in modo che quando la pianta cresce poi fa una auto pacciamatura e quindi l'erba non ha non riceve il sole quindi riusciamo a contenere bene gli infestanti questo modo questa fa conto che una volta trapiantata sono passato una volta con il sarchio eccolo qua faccio vedere quello che utilizzo per far vedere che è anche un lavoro veloce da fare quando questa vita erano tre file erano molto piccole fate conto che erano piccole come queste con questo sarchio passa molto velocemente quando il terreno è anche in tempo era giusto e aiuta a scalzare le piccole erbe che partono e soprattutto anche fa un lavoro di arieggiamento per la pianta e aiuta la pianta a partire meglio noi poi basta poi l'abbiamo lasciata andare lei cresce e copre da sola non sempre va così bene qua siamo partiti anche con terreno che era abbastanza libero da rinfestanti perché l'avevamo anzi in realtà per sulla carota abbiamo fatto anche una falsa semina che consiste nel preparare l'aiuola come se dovessimo seminarla quindi l'abbiamo fresata poi abbiamo acceso gli irrigatori l'abbiamo bagnato e invece di crescere le sementi che non abbiamo seminato è cresciuta l'erba spontanea e a quel punto lì siamo passati con un piccolo strigliatore che dopo magari vi faccio vedere abbiamo scalzato le piccole erbe che partono dopodiché abbiamo seminato la carota quindi abbiamo fatto una prima pulizia dell'aiuola e dopo allora non lo faccio perché non ce l'ho fisicamente però sicuramente il piro di serbo è un buon un buon metodo per gestire le le erbe infestanti cioè il concetto qua è di gestire le infestanti sempre quando sono al allo stadio più piccolo no c'è in quel quando quando si ha questo tipo di erba anche se io passo con questo questo ormai sono troppo grandi infatti eccole là che sono ancora sotto bisogna lavorare sempre di anticipo e lavorare quando sembra che non serva sembra che non ci sia l'erba in realtà c'è perché è minuscola e la vedi quindi bisogna inchinarsi andare a vedere monitorare e in quel momento si interviene perché il lavoro sarà molto facile da fare perché non hai resistenza delle radici e l'effetto è molto alto perché quelle piantine lì moriranno subito avendo le radicchiette all'aria prevenire meglio che sempre in questo caso sì il problema è che non sempre si riesce a prevenire non hai il tempo di prevenire qui abbiamo delle belle rape che sono pronte per la raccolta eccole qua quando tutto va bene vengono fuori delle bellissime rape questo è un prodotto che è molto apprezzato dai clienti e che era anche poco conosciuto perché di solito ci trovano le rape sai quelle già cotte dentro la confezione di plastica mangiare una di queste ovviamente è tutta un'altra cosa perché la ma puoi mangiare cruda anche cruda e quindi prendere tutte le sue i suoi nutrienti in più si può mangiare anche la foglia tranquillamente perché questa è la cugina della della dieta da costa quindi il cliente che trova questo prodotto fresco noi solitamente lo raccogliamo il giorno prima della vendita trova una foglia bella vigorosa e te la puoi mangiare da coppia andiamo dall'altra parte qui questa è la sara che ormai appunto abbiamo lasciato andare perché a giugno noi abbiamo già raccolto quello che dovevamo raccogliere e anzi forse c'è un cappuccio andiamo prenderlo mi serve anche per dopo in realtà qui lasciamo andare tutto abbiamo già queste sono piante che ho già raccolto più volte l'atturino da taglio che adesso andando a fiore a questo punto qua passerà con un trincia quindi fresiamo tutto trituriamo tutto poi accendiamo l'acqua quindi bagniamo bene tutti i residui e poi ci mettiamo sopra un telo nero da da insilato che farà la solarizzazione quindi ucciderà diciamo l'erba che è rimasta e dopo 8 giorni secondo anche del caldo che va togliamo il telo e sotto non c'è più non ci sono più residui di erba questa è una cosa molto particolare appunto del nostro modo di lavorare che ci consente di intervenire anche le situazioni in cui l'erba ti scampa trinciando tutto mettendo un cielo ritorno un po' alla situazione di partenza è questo che ha inquadrato prima appunto sono di finocchi dell'anno scorso che sono rispuntati da soli noi intanto teniamo li teniamo anche perché ci piacciono si va a vedere appunto magari molti non hanno mai visto il fiore del finocchio è una pianta bellissima quando si sviluppa e quindi ecco c'è anche questo aspetto che di solito non si vede mai negli orti ecco qui abbiamo gli ultimi cappucci e una volta raccolti questi tre questi pochi cappucci che sono rimasti interverremo appunto a trinciare tutto adesso è giugno troppo caldo basta la serra le aiuole si allora appunto noi non abbiamo il trattore non lavoriamo con trattori ma solo con i motocoltivatori ne abbiamo due quindi arriviamo a mettere a trinciare i residui mettere il telo una volta tolto il telo troviamo un terreno abbastanza libero dall'erba a quel punto lì abbiamo un attrezzo si chiama ratro rotativo che è una specie di trivella che rincalza dove passi tritura diciamo l'erba che è rimasta e il terreno e rincalza e lancia il terreno sul appena lì appena a fianco quindi hai la possibilità di dare la forma alle aiuole e una volta passato con quell'attrezzo lì abbiamo anche passiamo di sotto con una gralinette che la forca a doppio manico per arieggiare il terreno buttiamo il compost o il letame che di solito ci facciamo portare da chi gli fa bene perché è importantissimo avere un buon compost fatto come si deve e dopo aver passato a gralinette e buttato il compost passiamo con una fresa una leggera fresatura superficiale e quindi abbiamo il terreno pronto per essere osseminato o per i trapianti questo è uno dei due attrezzi che abbiamo molto motivatore con il trincia questo qua è fondamentale per per il nostro modo di lavorare perché ci consente appunto di triturare tutto quello che rimane una volta finita la cultura o l'erba che magari ti scampa ecco beh da qua si può avere un po in generale la come è organizzata l'azienda abbiamo tutto questo settore a sinistra che in realtà è diviso in quattro settori il primo settore è questo che va a finire fino al filare di alberi un secondo settore là dove c'è la serra un terzo in fondo là e un quarto in fondo là sono tutti i settori identici quindi tutti blocchi da 25 aiuole lunghi 30 metri e larghi 80 quindi ogni aiuola è identica in ogni punto del campo questo perché la larghezza dell'aiola è ideale alla larghezza per essere lavorato con gli attrezzi che abbiamo quindi questo trincia è da 80 la fresa più o meno da 80 quindi abbiamo impostato la larghezza dell'aiola in base a agli attrezzi che abbiamo sono tutte lunghe 30 uguali perché per esempio le linee di irrigazione le reti anti insetto il tessuto non tessuto mettere sopra lo puoi spostare da un punto a un altro dove vuoi standardizzando un po tutto ecco tutte aiuole molto vicine noi camminiamo solo nei passaggi non prestiamo mai l'aiola dove coltiviamo così manteniamo la struttura del terreno come deve essere noi partiamo appunto dal presupposto che se hai una buona struttura è un terreno ben nutrito le piante avranno molta più possibilità di di radicare bene di crescere vigorose quasi sempre le piante comunque avranno qualche problema nell'arco della della crescita però se noi gli diamo un inizio vantaggioso gli interventi poi saranno sempre minori allora questo è un po un esperimento che abbiamo fatto quest'anno ci siamo stancati di coltivare le zucchine su una pacciamatura di telo che non vogliamo più usarlo praticamente e nello stesso tempo siamo stanchi di non volevamo trapiantarle in terreno nudo perché vogliamo che il terreno soprattutto d'estate sia coperto quindi abbiamo pensato di fare una copertura vegetale verde di trifoglio quindi abbiamo preso la storiola seminato a mano il trifoglio fatto crescere trifoglio abbiamo fatto varie prove foglio nanissimo qua trifoglio nano bianco qua e qui invece ne abbiamo lasciato stare senza niente questa erba che partita da sola dopo che il trifoglio era partito abbiamo trapiantato sopra il trifoglio le piante ecco quindi è una prova quest'anno la prima volta allora l'esperimento va abbastanza bene perché vedete il terreno tutto coperto quindi trattiene anche l'umidità le radici delle del trifoglio lavorano sotto il trifoglio una leguminosa quindi un azotto fissatrice prende l'azotto dall'aria e le fisse nel terreno e quindi fa anche una concimazione alle piante l'unica cosa in questo caso che è cresciuto talmente alto il trifoglio me lo aspettavo più basso che sta quasi facendo competizione alle piante in più abbiamo avuto il problema delle arvicole sotto che ce le hanno le arvicole talpi in questo caso che ce le hanno scalzate quindi abbiamo dovuto intervenire a ripristinare la pianta quindi ecco sono è in più il maggio freddo quindi quest'anno è una primavera un po' difficile per le cucurbitacee e per le piante estive quindi sono partite un po' lente però ci piace un sacco l'idea di avere il terreno coperto infatti questo settore lo abbiamo dedicato a questi esperimenti 15 giorni qua sui risultati ah sì adesso inizi già a vedere quel caso sì abbiamo fatto la prima raccolta e abbiamo visto che appunto col trifoglio molto alto le piante tendono ad andare un po' verso l'alto quindi forse sono un po' troppo soffocate probabilmente interveremo con una dicespugliata qua e vediamo se magari per il prossimo giro il prossimo mese com'è la situazione anche qui abbiamo fatto degli esperimenti un po' azzardati abbiamo messo il melone in mezzo a è difficile anche vederlo un'aiuola dove avevamo seminato il trifoglio però non vedete che non è cresciuto bene qua quindi l'abbiamo lasciato andare così abbiamo detto beh lasciamo che inerbito lo gestiamo un po' col lice spugliatore e vediamo se il melone riesce a partire ea coprire poi l'erba vabbè qua appunto è un settore dove facciamo sia estive che fagioli e rape e insalata ogni totaiolo a noi piace smizzare fare una barriera questo è un sorgo sudanese che cresce anche due metri e quindi ci farà un po' di ombra alle culture ci farà un po' da frangivento una fascia anche per per gli insetti per riparo per insetti animali vari quindi l'idea di smizzare le colture con delle fasce ogni tot delle fasce o di fiori quindi qua magari l'anno prossimo la fai qua e qua ci coltivi sì comunque dopo l'anno prossimo questa qua verrà anche durante l'anno trinciata e questo diventa un concime per l'aiuola e ci puoi tranquillamente coltivare sopra anche qui vedi esperimento zucchine e melanzane sul letto di trifoglio l'anno del trifoglio l'anno del trifoglio qua magari sarà un esperimento che non va ma se non provi non si sa quindi noi siamo facciamo da cavie quindi vedremo se non perdere tempo se vale la pena anche qui insalata sul trifoglio e vediamo come risponderà appunto questi sono i teli che dicevo prima teli in plastica grossi che appunto mettiamo sopra i residui e una volta tolti adesso questo qua già da un po' però si riesce ad avere poi un terreno libero dalle erbe che sono morte e al stesso tempo nonostante possa fare molto caldo si forma sempre un po' di umidità sotto quindi in questo caso per esempio è quasi pronto anche per essere per effettuare dei trapianti quindi se usato in maniera intelligente il telo può dare veramente buoni risultati ma ma queste non mancano mai infatti il telo può essere riparo per le lumache se lo lasci troppo sotto si sviluppa una comunità di arvicole di talpe che non te la levi più quindi non esiste la soluzione perfetta mai esiste la soluzione che ti dà un po' più di vantaggi che i svantaggi quindi bisogna trovare questa la buttiamo dove? è là con tutto rispetto per la lumaca e abbiamo già ricevuto i documenti sul idronizzato dell'imaccia di Enrico lo so purtroppo bisogna anche capire che è un po' una lotta per la sopravvivenza quindi c'è sono o diciamo avere noi ortaggi e voi a mangiarli o lasciamo che le lumache e altri animali si ripappino quindi è un compromesso che bisogna accettare ed è così anche qua super esperimento ho trapiantato i finocchi e dopo due settimane dal trapianto dopo aver sarchiato un paio di volte ho seminato il trifoglio molto denso che la mia idea era una volta i finocchi venivano rincalzati dalla terra per far diventare bianchi adesso in realtà queste varietà qua non serve però ho detto invece di mettersi lì a rincalzare perché non fare un'erba che faccia lei da da sì perché alla fine il concetto è bloccare la luce e far sì che diventi più bianco più tenero vediamo può essere che anche in questo caso sia troppo e sia un svantaggio questa è una fascia tampone c'è una fascia di alberi e piccoli frutti mista si abbiamo fatta noi con un amico esperto di alberi tre anni fa e che se guardi proprio completamente in mezzo al campo quindi i vicini mi hanno guardato malissimo perché nessuno fa una fascia di alberi in mezzo al campo perché di solito fai i lavori col trattore quindi sarebbe una rottura ma noi lavorando a mano su aiuole che rimangono sempre fisse questa fascia non ci disturba assolutamente anzi ci dà un sacco di vantaggi quindi raccolta di piccoli frutti di uva di pere di mele varietà antiche anche abbiamo messo piante che non diventino troppo alte ma che raggiungono non so i due metri di altezza al massimo in modo di non essere troppo invasive confronto gli ortaggi quindi non creare troppa ombra ma un po' di ombra e un po' di frangivento lo fanno e quindi è sicuramente un vantaggio anzi l'idea sarebbe di riproporre invece di fare quelle aiuole di sorgo che vi dicevo prima sarebbe bello avere queste fasce quindi non so ogni 8 o 10 aiuole si potrebbe avere una fascia di qualcosa che può essere una fascia mista una fascia dei piccoli frutti una fascia alberata una siepe e qui però appunto inizia una manutenzione che è diversa dalla manutenzione dell'orto quindi bisognerebbe anche saperne la frutticoltura è un altro settore quindi noi non siamo esperti abbiamo un amico che ci viene fare le potature però diciamo che la lasciamo abbastanza abbandonata per noi l'importante è che ci sia appunto una fascia diversa che crea diversità che crea ombra ci dà anche la possibilità di non so se sei in raccolta e devi appoggiare i raccolti hai sempre delle zone di ombra dove puoi appoggiarle e anche per noi hai comunque sempre qualcosa da mangiare merenda e via qua voglio farvi vedere che ogni anno arriva a proposito di talpe questa credo sia una talpa ma una comune di talpe che ogni anno la fa qui allora io quest'anno ho deciso di seminarci i fagioli e le patate dentro la loro comune perché la terra che buttano su le talpe è sempre una terra buonissima friabile e lavorata e sta crescendo e loro non so se gradiscono ecco qua abbiamo altri due settori andiamo a vedere questo al volo beh gli ho dato un numero quindi uno due tre quattro questo mi serve per fare le rotazioni quindi questo sarebbe il tre per dirti qua l'anno scorso c'erano i radicchi e quest'anno abbiamo fatto le primaverili miste che sono dalle patate insalate alla catalogna alla bietta ai piselli e cipolle e l'anno prossimo e quest'estate dopo di loro ci andranno i cavoli insomma abbiamo un programma per fare rotazione e fare in modo di non mettere mai la stessa cultura nello stesso posto prima di almeno tre anni più o meno qui anche qui vari esperimenti abbiamo messo in questo caso il telo nero mater B è uno di pochi casi in cui utilizziamo per fare le patate patate che dopo non vengono più rincazzate ma crescono sotto il telo quindi la raccolta è anche molto semplice basta sfilare la pianta e ovviamente la resa non è mai uguale alla patata che si fa in pieno campo che ho là che poi vi faccio vedere però anche in questo caso si riesce a avere più raccolti perché qui ho l'insalata che adesso ho già raccolto quasi tutta tra una pianta e l'altra di patate c'era l'insalata in mezzo c'è la catalogna quindi da una aiuola raccogliamo patate, insalata, catalogna e abbiamo fatto vari sesti di impianti diversi per fare delle prove qui abbiamo due file di patate invece qui una sola fila centrale di patate con la lattuga ai latti per vedere qual è il sesto di impianto che ha più resa sono tutte prove che facciamo per capire come fare meglio l'anno prossimo se mi ricordo lo scrivo ma di solito perdo il foglio quindi non siamo così organizzati però nella memoria ogni tanto ti viene in mente no quella lì è una cazzata aspetta che mi ricordo che l'anno scorso ma non siamo fatti per essere troppo tecnici noi no qui abbiamo per esempio i piselli e qua anche qua una prova al centro abbiamo messo i ravanelli che finché i piselli erano piccoli li abbiamo raccolti quelli rimasti li abbiamo lasciati andare a seme e ci fanno un po' da supporto i piselli un po' si attaccano a questi ravanelli che sono appunto essendo alti abbiamo visto quest'anno che può essere un anche questa una via di lasciarli andare adesso qua sono pronti praticamente ho raccolto i primi ieri e quindi questi qua sono i primi che arrivano andrà andranno agli abbonati ai csa che sono sempre i privilegiati abbiamo parlato delle csa bisogna dire qualcosa o si sa rimandiamo il video della di qua di là ok figo vabbè dai questi sono sempre no saggia buoni ci sono varie varietà o oggi è più uguale no è difficile trovare tanti ci chiedono che i piselli mettete ogni anno proviamo qualcosa di nuovo perché non c'è un seme che ti dà la garanzia no io faccio sempre quelli nani perché non ho voglia di mettere strutture infatti tengo bassi e li raccogliamo così perché non ci stiamo dietro con le reti strutture pali qua c'è la carota in mezzo per dirti che è facile che riesca a svilupparsi comunque broccolo calabrese il classico broccolo verde tra una pianta e l'altra cipollotti e quindi anche qua cercare di sfruttare il più possibile il sesto di impianto capucci faccio vedere solo questa un attimo che è un po' questa pianta qua di romice noi le lasciamo apposta e anche certi radicchi perché vedete cosa succede qua c'è una delle colonie di di afidi sono quelli che vanno a rovinarci a mangiarsi spinaccio e moltissime altre piante e qua le coccinelle che vanno a mangiarsi gli afidi quindi qua noi le larve in realtà no come? sono le larve in realtà che mangiano coccinelle sì 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 le larve di coccinelle poi sì però ecco lì la larva di coccinelle ombra? no comunque lasciare queste ti permette di dire vabbè allora qua ho una concentrazione di afidi faccio un trattamento con il pireto che è comunque un prodotto naturale il pireto però non è selettivo uccide un po' tutto se qua vedo che ci sono solo afidi e non ci sono coccinelle dico vabbè non c'è nessun competitore qua faccio un trattamento e li uccido se invece vedo che c'è vita sono coccinelle quindi insetti utili mi dà l'idea che c'è un equilibrio e quindi non occorre probabilmente intervenire quindi è con delle piante che segnalano la situazione generale poi c'è un insetto nuovo questo insetto nuovo che Elisa non ci vuole dire cos'è se qualcuno sa dirci chi è andiamo a vedere l'ultimo settore anche qui questo settore dove andranno i radicchi a luglio agosto quindi adesso toglieremo il telo faremo una piccola concimazione su ogni aiuola e semineremo una cover una struttura di copertura che in questo caso sarà il sorgo sudanese perché è una pianta che cresce veloce e tiene ben coperto il terreno invece qui dove andranno i cavoli a luglio abbiamo già seminato un sovescio sopra ogni aiuola questo è un sovescio misto di sei specie allora c'è questo del grano saraceno che è in fiore poi c'è il fieno greco una vigna che è una leguminosa una crotalaria allora il saraceno ha preso il sopravvento però sotto c'è ci sono sicuramente la crotalaria che è questa questa per esempio è la crotalaria che è una leguminosa che è questa ecco qua devo staccarla? si chiamata anche canapa canapa di qualcosa perché ha una fibra la pianta è una fibra che ricorda molto la canapa ci fanno le corde anche con questo poi c'è il cartamo e il pieno greco e quando fai sovesci e tieni pulito i camminamenti si, poi se teniamo pulito i camminamenti con l'attrezzo con la ruota e la lama che però adesso non abbiamo visto magari faremo una volta un video su tutti gli attrezzi e quindi questo vedete sono piante che crescono bene durante il periodo anche di siccità quindi ideali d'estate e quando arriveranno più o meno a questa altezza qua mi interessa che facciano massa perché poi trinceremo e vediamo se i residui che lasciano le piante se sono abbastanza spessi li useremo come pacciamatura e andremo a trapiantare direttamente i cavoli sopra la pacciamatura se invece lo strato che rimane si secca e non riesce a competere con l'erba lo interreremo e poi trappianteremo sopra un terreno preparato anche qua c'era un sovescio diverso da quello vedete dopo averlo trinciato rimane questo strato che però è vedi sotto lo strato come è ancora umido il terreno rispetto a qua che invece sta prendendo il sole il vento e sta seccando qua microrganismi i lombrichi la vita continua a andare avanti e trasformare bene il nostro terreno tenere un terreno scoperto sotto queste caldane e vento ovviamente rende tutto più difficile quindi l'idea è di tenere coperto il più possibile con vari modi questa è una aiola di strumento che abbiamo fatto per fare una giornata con dei ragazzi per fare una raccolta manuale del grano per far vedere quando si raccoglie e poi lo trasformiamo in farina con un mulino per fare una roba un po' didattica che si sappia da dove arriva il pane e la pizza e questo settore delle fragole adesso siamo ai primi di giugno siamo verso la fine della della produzione ce ne sono ancora abbastanza e adesso magari andiamo a vedere quelle dentro quelle abbiamo diviso in due parti le fragole abbiamo lasciato una parte scoperta e una parte sotto la serra quelle sotto la serra ovviamente non prendendo la pioggia sono più rischiano di ammalarsi molto meno e quindi hai una garanzia che la produzione sarà buona perché questo maggio ha piovuto parecchio infatti queste qua adesso cominciano ad essere abbastanza malate vuoi fare un tuffo dentro la serra al volo o? e dopo di loro che facciamo un tuffo di loro che lo facciamo un tuffo sì adesso faremo un video specifico sulle fragole per darvi due o tre dritte su come abbiamo impostato il lavoro ecco qui abbiamo fatto la raccolta ieri perché oggi avremo una vendita in punto vendita di tutto il raccolto di ieri ecco la produzione è stata buona quest'anno nonostante siano partite tardino perché l'ultima gelata di aprile ha rovinato le prime fioriture quindi sono partite il 10-15 maggio invece solitamente partono il primo maggio a produrre però stiamo vedendo che la produzione si sta allungando fino probabilmente al 10 di giugno quindi recuperiamo un po' di produzione che abbiamo perso ecco la fragola è veramente un prodotto che vale la pena fare in un orto perché dà un sacco di soddisfazioni e anche però richiede un sacco di lavoro quindi non passa l'idea che c'è qualcosa che sia facile e vantaggiosa non esiste le cose che funzionano bene sono anche quelle che richiedono un certo impegno ecco facciamo tempo per vedere le patate in fondo o chiudiamo? si mi trattengo ma possiamo dire che si allora a gestire il lavoro qua sono io io si Elisa mia moglie che lavora ha un altro lavoro di una tre settimana mi dà una mano al sabato in punto vendita e ha tutto il lavoro di programmazione di decidere appunto inizio anno cosa piantare quanto piantare oltre a essere l'entomologa della situazione che spesso viene a fare monitoraggi vedere la situazione degli insetti capiamo come intervenire ho l'aiuto saltuario di qualche perché fortuna ho due cugini giovani che mi danno una mano soprattutto nei periodi intensi di raccolta di trapianti però diciamo che in gran parte me la cavo da solo e quindi insomma tutto il discorso di gestire la parte produttiva e poi la vendita vuol dire che di notte devi stare al computer a far mandare mail newsletter scaricare gli ordini e quant'altro perché non abbiamo parlato di come vendiamo i prodotti noi facciamo una vendita diretta due volte la settimana venerdì e sabato e diamo la possibilità ai clienti sostenitori di venire o in punto vendita a comprare al dettaglio oppure noi spediamo una newsletter ogni settimana con l'elenco la tabella con i prodotti disponibili e chi vuole si fa la spesa su prenotazione e viene a ritirarla in punto vendita oppure gliela consegniamo questa è la nostra un po' organizzazione quindi concentriamo tutto il venerdì e sabato e le raccolte vengono fatte al giovedì venerdì quindi il prodotto è sempre fresco quando siamo in piena stagione che abbiamo raccolte anche giornaliere facciamo delle vendite anche in fra settimana vendite in fiducia come adesso con le fragole prepariamo le fragole già pronte e uno si autogestisce in punto vendita perché noi non abbiamo tempo di rimanere queste sono invece le patate fatte come metodo classico quindi rincalzate in questo caso abbiamo ottenuto abbastanza spazio perché non abbiamo l'attrezzo per raccoglierle quindi chiamiamo un terzista qui vicino col trattore e quindi riesce a passare a cavallo della fila e con un piccolo aratro ci scalza le piante però per come la pensiamo noi non ha senso mantenere tutto questo spazio perché è tutto spazio da gestire per l'erba e se hai poco terreno lo perdi però questo è un po' un compromesso che abbiamo fatto hai pensato di fare qualcosa durante il ciclo? sì, avevo pensato però è un po' difficile perché comunque ci devi passare in mezzo devi rincalzarle un paio di volte però volendo sì si potrebbero fare non so però devi fare qualcosa che finisca prima della raccolta patate perché poi ci arriva il trattore e quindi fai pomodori? come si è? i pomodori ne ho pochi ne ho fatti pochi là ma ho deciso di non mi piace mi sono antipatici i pomodori come con le persone ci sono anche degli ortaggi con cui ti trovi meglio vado molto d'accordo con i finocchi anzi c'erano là da raccogliere erano belli da vedere raccogliamo uno dai finiamo là i pomodori ne ho pochi faccio solo i datterini quelli piccoli perché qua si ammalano sempre vento al culo nero poi da noi tutti si fanno il pomodoro quindi quando è stagione tutti hanno l'orto il nonno che fa l'orto quindi non è un prodotto che è richiestissimo in più spesso si ammalano e quindi non non lo facciamo perché se lo faccia giù in Sicilia il pomodoro che viene benissimo qua si ecco i finocchi sono pronti adesso non ho il coltello ecco cioè si vede che è un finocchio sano anche della radice già vedi che bella radice bianca bianca dentro vuol dire che sta bene che ha trovato spazio dove andare e questo ecco i finocchi ci vengono sempre bene quindi più finocchi e meno pomodori buono bene happy ending cosa facciamo non abbiamo ripassato quindi in vita ci vediamo allora cerchiamo di fare un video anche una cosa dici una volta al mese o auto o prodotto per vedere l'evoluzione insomma dei vari settori anche come si gestisce il terreno come si interviene e come ci organizziamo quindi oltre l'entroterra piccola terra piccola terra e seguita il rizosfera perché è un collettivo figo che è nato e quindi collettivo è un nome anche che ha il suo significato non l'abbiamo messo a caso questo nome e quindi insomma è una bella realtà che sta nascendo quindi noi ci siamo e cerchiamo di fare bene se vuoi se vuoi se vuoi dove aspetta dai qua patria ma non sono bravo come Enrico Enrico porta pazienza bene ciao grazie ciao 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 ciao